Guarda, ora faccio uno scherzo a faccia da culo! Ma sei sicuro? Non è che ti spara? Stai a vedere, stai! Ah faccia da culo! Hai una faccia ma non hai un culo! Eliminazione, eliminazione Duna! Vediamo quanti voti abbiamo ricevuto! Madonna, ma perché continuiamo a ricevere sempre meno voti? Tutti tranne LOL e Caterpillar sono salvi con 0 voti! Ma perché hai tirato lo yogurt nel mare? Visto che i yogurt costano bene, ve li dovete prendere voi pezzenti, usate i vostri soldi! E adesso è eliminato con 7 voti e... Caterpillar! E la sfida di oggi appunto si baserà sullo yogurt! Dovrete cadere da quella montagna altissima, non so quanto, e dovrete atterrare nello yogurt! Se no attererete nella cacca di dinosauro! E non chiedetemi come è fatta da averla! Ora la tv vi farà vedere l'ordine in cui dovete buttarvi! Ah sono ultimo! Il mio maestro mi ha insegnato che se faccio yoga posso fare tutto! No! Tanto tu non ci riuscirai! Oh! P Um! Ciao! Ciao ciao! Ciao ce l'ho a te! traduttore ma contrario nelone ha superato la sfida o no ah facciamo che l'ha superata lol vabbè non c'ho più voglia di stare con te quindi faccia da culo e contro nelone hanno vinto l'immunità scrivetemi i commenti che il votare finisce da 48 ore ciao